Marconia non è un paese a misura di bambino. Mirna Mastronardi, dirigente nazionale del Partito Democratico e mamma, scrive al sindaco Vito Di Trani. Vediamo. Caro sindaco, è sui bambini che voglio focalizzare oggi la sua attenzione senza alcuna polemica, con uno spirito di confronto costruttivo con un uomo che possiede un grande cuore. Questo lo sfogo di una mamma residente a Marconia di Pisticci, la quale scrive al sindaco Vito Di Trani in merito allo stato di degrado in cui alcune strutture pubbliche verserebbero e non sarebbero più fruibili ai cittadini. E continua. Non è un paese a misura di bambino per la condizione fatiscente in cui versa la villa centrale, il cosiddetto parco giochi, sito alle spalle della chiesa, dove i giochi sono ridotti a pericolosi ammassi di legno e rottame devastati da vandali. Un parco giochi sporco è composto di terra nuda che al primo cenno di pioggia si trasforma in un enorme pantano. A quanto pare anche le scuole necessiterebbero, secondo mamma Mirna, di una curata manutenzione. Scuole nelle quali, dice la mamma, signor sindaco, l'ordinaria manutenzione quando trascurata diventa straordinaria, finendo per richiedere somme troppo onerose per il rilancio di qualsiasi normale ente. Ma la madre, sindaco, si sente in dovere di raccontare la gravità di quel che accade con gli scuolabus che accompagnano i bambini presso le scuole elementari e che alle 8 sono già nei pressi delle scuole, dove i bambini scendono. Però, subito dopo la discesa, lo scuolabus chiude le porte e riparte. Peccato che la scuola continua. La mamma apra le sue porte e i suoi cancelli alle 8.20. La mamma mette in evidenza il fatto che i bambini resterebbero incustoditi fino all'apertura del cancello. E infine, signor sindaco, conclude la madre, proprio mentre nei giorni scorsi l'associazione italiana Esposti a Mianto, sezione della Val Basento e Medicina Democratica Basilicata, hanno illustrato i risultati di uno studio secondo cui vi sarebbe una preoccupante incidenza di tumori nei bambini lucani, accanto alla scuola primaria di San Giovanni Bosco, accanto, giace indisturbata la ex chiesa provvisoria. con la copertura in Ethernet. La mamma invita il sindaco di Trani a provvedere quanto prima alla risoluzione dei problemi evidenziati.